Musica Hi people of youtube Welcome back to un new episode of Mario e Luigi Bowser Inside Story A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser Che è riuscito ad entrare nel castello che ha preso a pugni E adesso siamo qui nel raggio Buu che ci ha permesso di attraversare questa zona e apprendere nuove abilità A prendere questo cristallone stella Perfetto Che tra l'altro A vederlo così e soprattutto il materiale Oh dio mio sto blocco delle palle Mi ricorda molto il... Come si chiama? La stella cobalto di Partners in Time Anche per il materiale, non solo per la forma di una stella di cristallo E vai, possiamo entrare Dove si nasconderà il saggio? Ma... Quel nemico lì È lo stesso che c'era dentro lo Job È incredibile, hanno riutilizzato un nemico Non è niente di strano però A parte che è fermo E c'ha la stessa abilità o sbaglio? Aspetta, no Era dentro lo Job C'ho un attimo di... Era dentro lo Job lui Sì, vero? In ogni caso, guarda Vediamo quanti punti di esperienza ci danno Giusto anche per sicurezza Allora Ok, qua ho sbagliato io Porca miseria Eh, si è diventato bello grosso, eh Va bene 300, 150 all'uno 360 punti di esperienza in più Non ne è valsa totalmente la pena Ma, come ho detto A sto punto usiamolo Ce l'abbiamo Super sciroppo Mmm Scusami Io c'ho il raggio attivato Perché? Non è di solito il contrario Che con il raggio quelli si disattivano Va bene, fa niente Allora Visto che Probabilmente c'è una boss fight Ecco fatto Belli, pieni e carichi Andiamo Luigi Il bruco Fermati Mario, dobbiamo prenderla Ci penso io Adesso scappo Ma dai Oh no Non gli piace È andata sottoterra? Sì sicuro E infatti Cretini Luigi non funziona È una tecnica che non funziona Non hai mai visto Pokémon Quando cerca di catturare il PJ Luigi Non funziona Luigi Devi smetterla Ma ce l'avevo quasi fatta Ma ti ho detto che ci sto provando Ma ti ho detto che ci sto provando Andiamo a passare di qua Poi dopo vediamo Povero Luigi Oh ma guarda Oh ma guarda Allora Mi sembra di ricordare che non ci sia una boss fight in questa zona Forse Forse Però molto probabilmente Il dialogo con Con il bruchino Dice tipo Perché mi state inseguendo Una roba del genere Perfetto Chi colpirà? Rosso Aia Dotto propestro Che cacchio ho detto? Perfetto Dai che è un altro colpo È sicuro Perfetto Ci muore Pam 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 Dunque 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 Nessuno di questi tubi Immagino Sia collegato a qualcosa Vero? Ovviamente No Quello giallo è collegato Ehm No le manete Ok le ho prese Tra l'altro Dobbiamo sempre fare attenzione a Ehm Vieni qua Diceva Dobbiamo fare attenzione Se ci sono Ehm Punti nel terreno Che brillano Per prendere Sai L'oggetto che c'è sotto Almeno Se c'è qualcosa di utile Lo prendiamo subito Allora Verde Aia Devo capire bene un attimo Il tempismo dell'arcata Però Perfetto Speravo di ucciderlo Sincero Non importa Ancora pochino Pochino Saliamo di livello Poco poco Tu niente Tu nulla Tu nulla Tu mi porti di sotto Perfetto Con 50 monete E un super sciroppo Ok Forza Uccidiamo La prossima pianta Sai cosa Quasi quasi Uccido prima la pianta Ah beh Visto Stavo giusto dicendo Uccido prima la pianta Ok Ammetto Che speravo di ucciderli entrambi Tra l'altro non ho visto Che punteggio ho fatto Perché Questo attacco È strano Non capisco Se devo andare Ah giusto I soliti blocchi invisibili Se devo andare Veloce oppure no Perché il gioco Cavolo Non ti fa ben capire Se posso Spammare o no Perché tutte le altre volte Che l'ho fatto Non è andata a buon fine C'era mica Ecco di qua Andiamo Da questa parte Allora aspetta Perché Mi sa che Lì c'è un blocco invisibile No A meno che Forse Fammi vedere Ci sia un blocco Fantasma Sì C'è un blocco E voglia C'è un bloccone Fantasmone Allora Iniziamo Prima A passare di qua Poi Ci pensiamo Allora Ok Ancora il coso qua Di cristallo Allora Qua è chiuso Qua è chiuso Ok Per un attimo Così Per passare di livello Poco poco Allora Io vorrei risalire Però Aspetta un attimo Ah Pedana invisibile Certo Giusto 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 Allora Vediamo Qua non c'è nulla A meno che Non ci sia Un blocco Nascosto Da qualche parte Vero Se mi fai fare Un percorso Del genere Qualcosa Me lo nascondi Certo Non mi aspettavo La super nocciolina Ma Qualcosa Un attimo Di Un pochino Più Sai Pochino di più Poco poco Eh Una super nocciolina Vabbè Butta la via Insomma Non offendiamo I regali Che otteniamo Ecco qua Perfetto Quanto siamo Di soldi Diecimila monete Ok È già Già qualcosa No Stiamo Ottenendo Abbastanza Devo dire Allora Con Che Allora Ehi Calmi 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 Già che ci siamo Lo sfruttiamo Ma certo Se prendiamo Di fantastici Perlomeno Ci otteniamo Qualcosa Giusto Allora Perfetto Perfetto Gigi Ah Pensavo Che era Da schivare Vabbè Non importa Andata bene Lo stesso Ottimo Anche solo Quel pochino Di soldini In più Di sicuro Schifo Non ci fa Puntiamo La vita Direi di no Preso Ok Stato un po' Difficile Qua C'era solo Un 3 E un 2 Questa è stata Molto rischio Ma erano tutte brutte Devo essere sincero Tutte 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 brutte Gigi l'attacco Ce la facciamo Dai c'è un 3 Forse ce la fa Preso Ok Andata bene Dai Dobbiamo riuscire A mantenerli entrambi Sulla stessa linea Stessa quantitativa Di attacco Almeno La difesa Posso cavarmela L'attacco Dobbiamo invece Sempre sperare Che sia Un pelino Più alto Del dovuto Allora Cadiamo prima Della linea rossa Ok Ok Calmi Vediamo Dall'altro lato C'è qualcosa Sì Allora Dall'altro lato C'era sicuramente Qualcosa Ma dobbiamo Arrivarci sempre Spinando Perfetto Facciamo Così Bravo Gigi Quel bel fantastico Aia Qui dicevo Quel bel fantastico Attacco fortunato Lo sfrutto Il più possibile Il bonus Dei punti esperienza Perché va bene Vediamo Va bene Che sono pochi Ma sono sempre Punti in più Allora Guanti delizia Effetto raddoppiato Durante lo scontro Strumenti più efficaci Non male Non male Sembra buono Non so che percentuale Lavori Però per esempio Uso uno sciroppo Che mi da Dieci Dieci Come si dice Punti Ah ma aspetta Il rosso E la pedana Ma certo Io pensavo Che era diviso A colori A caso Ma che stupido Comunque Lo sciroppo Magari ci da Dieci punti Con quell'oggetto Ce ne da Bo Quindici Non lo so Ipotizzo eh Non so che percentuale Lavori Siamo Ritornati in cima Perfetto Così Abbiamo preso Tutti gli oggetti Proseguiamo Allora qua non c'è nulla Una super nocciola Perché mi sembra così Sospetta Questa zona Comunque Cos'è Ah ho capito Ecco fatto Zac Ecco perché Sembrava sospetta Perché lo era Ecco fatto Zac Un po' di energia Ai lipidi Grassi Perché stavo dicendo Gassosi Non ne ho idea Comunque Abbiamo trovato Una sveglia rivincita E un blocco Di salvataggio Vuol dire Solo una cosa Ovviamente Vuol dire boss fight Allora Ci sono Ah Ok mi dice anche Quanti ce ne sono E dove Molto utile Molto utile Ce ne mancano cinque Dovrò probabilmente Rivisitare Le zone Certo non è fondamentale Però Neanche lasciarle indietro No Fermati Abbiamo bisogno Della cura sfera Luigi Prendila Ma perché Avete delle prove concrete Che dimostri Che state dicendo La verità Beh non qui Ho la responsabilità E i diritti Delle proprietà Delle cura stelle Non posso fidarmi Di chiunque E men che meno Di voi Ma non l'abbiamo Fatta posta Altre volte Picchiati Cioè E attaccato Prima tu Quanto siete pressanti Non ne passa più Mi avete inseguita Dappertutto E ora volete anche Vildia La cura stella Ma chi vi credete Di essere E che cavolo E adesso ti mette Anche battere i peli Come un bambino Ma smettile Torna all'asilo Per favore Ascoltaci Ci serve Se proprio volete Tutti i costi La mia cura stella Allora conquistatela Combattendo Ancora Chi vince Si prende i diritti Di proprietà Le cura stelle Va bene Preparatevi In guardia Okidoki Quindi doppio combattimento Contro lo stesso boss Oh no Dobbiamo sperare Che non si ingrandisca Di nuovo E io sai che ti dico Barilozzo Allora È l'attacco più efficace Ok Luigi Mario Da quelle parti Facile Perfetto 454 Una botta Sola di vita Ma dai Cos'è quella roba Per favore Allora Ma si Riprovaci Vai Gigi Allora Luigi da questa parte È il contrario di prima No Ho sbagliato Perché sei scemo Non rifiutare Il mio amore Daia Che male Allora Sono stupido Ho sbagliato il tasto Sapendo anche Dove erano Che stupido Allora Mario sopra Luigi sotto Fatto Fatto Perfetto Dai che ci becchiamo Un altro Fantastico Sperando di non ucciderla Adesso Per favore Allora Mario Mario Ecco fatto Abbiamo uccisa Non credo proprio Carino Carino come gimmick Questa Che ci Che ci switcha Un'idea carina Comunque Comunque davvero Chissà se posso Ottenere più stelle Per fare più punti Esperienza E soldi In una battaglia Sola Sarebbe da scoprirlo Vai Luigi Allora Luigi è qua Perfetto Ottimo No Vai Nella speranza Che non prenda Troppe volte La bacchetta Ok Luigi A posto Hanno preso Tutte volte La bacchetta Complimenti a tutti Aia Ma dai Ma hai passato Due volte Dalla stessa parte Eh si Stronza Allora Luigi Mario Da una parte È andata Yes Peccato Volevo prendere Due stelle Ce l'avrei Voluta fare Volentieri Forse dovevo Fare più salti Duecento Duecento Ottanta punti No Un po' di più Per pochi Scarpa Riciclo Per poco 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 Olè Mi trasformo Sono una Forfallina Avete condotto La battaglia Eccellentemente Vi siete guadagnati Il diritto Di ammirare La mia vera Forma E chi se ne frega Beh Non sono bellissima E voi Sono una Di saggi Che costruiscono Le curastelle Sapevo Che al risveglio Della stella oscura Dei valorosi Come voi Sarebbero giunti Non è la prima volta Che ci incontriamo E' stato il destino A farmi ingoiare Da Bowser Insieme ai pezzi Di la carota Il destino Ci ha legato A un filo doppio Per favore Sono massaggia Ci dia la cuore stella Per abbattere Le muraglie Della stella oscura Ma certo Tenete Ecco Ora vi faccio Passare di qua La mia missione E' compiuta Quindi ora Potete smettere Di inseguirmi ovunque Spero che riuscirete A trovare Le altre due Scurastelle Addio Flappe Flappe Finalmente Siamo riusciti A tenere La prima Scurastella Possiamo andarci Da qua E vai Ok Niente Altri Cosi Nella Nel grasso Che possiamo prendere Direi di no Oh E cosa si è sbloccato qua La regione articolare E questo che cos'è Capum Ah Uh lo so io che cos'è Lo so bene io che cos'è qua No Allora se so che cos'è ma mi aspettavo che dovessi farlo Credo sia maestro Todd No è tutto aberto Anche voi qua Arrivo Durante le mie ricerche ho scoperto che questa zona è correlata al guscio schianto Il guscio schianto Esatto Il guscio schianto Delle mie ricerche risulta che il guscio schianto sia un'abilità che raddoppia il peso del corpo Tale peso maggiorato permette di colpire il terreno con una potenza nodevole Stimolando questi tre punti si dovrebbe riuscire a risvegliare l'abilità del guscio schianto Tuttavia al momento Pagli debilitati Finchè sono in questo stato Sarei inutile a stimolarli Qua intorno dovrebbe esserci qualcosa per rivitalizzarli Mario e Luigi provate a cercare in giro Ok Allora iniziamo Con questo È incredibile Bastava così poco Wow Mi sento fortissimo Ehi cosa succede? Mi sento strano Bravi I punti sono stati rivitalizzati Bene adesso bisogna stimolare tutti e tre i punti Andiamo Luigi Infiliamoci di nuovo E uno E zacchete E due E rizzacchete E tre Tre zacchete Cacchio Mi sento potentissimo Dio mio Orca troia che dolore Aia la mia schiena Ma che cos'è? Che succede? Mi sento pieno di energia Sembra che sia successo qualcosa a Bowser È il guscio schianto Adesso è in grado di effettuare il guscio schianto Oh Ottimo Ci penso io allora Ehi lassù mi senti Adesso puoi fare il guscio schianto Il che che cosa? Cosma sei tu? Che cosa hai detto? Guscio sbando Potrei provare Ma come? Ascoltami bene Devi insomma Prima di tutto devi cambiare con l'icona R Va bene Appena posso E poi usare la Y Cosma Ti è venuta la voce da un uomo Ma 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 che cavolo dici? Forse si Sai Con tutti questi spifferi Beh Riguardati anche tu mi raccomando Ma parliamo di cose più importanti Vuoi provare questa nuova abilità? Prima R Poi Y Ale Quando sei in volo Premi la Y Cosma Ce l'ho fatta Non sapevo di riuscire a fare una roba del genere Cosma Mi sa Che ti sei preso un brutto raffreddore È proprio vero Non puoi immaginare quanto stia male Piuttosto Non provi il guscio schianto? Sì Buona idea Sei un sicuro che mi tornerà utile Premi la Y E poi di nuovo la Y Olè Detto questo C'è proprio una zona in cui vorrei tornare un attimo a provarla C'è proprio una zona in cui vorrei tornare Tutto chiaro Ci sarà da divertirsi Liscio come l'olio Sì Più o meno Beh Io vado per lustrare qualche zona Qualche altra zona Uno Due Tre Aia Che male Che dolore Ciao Ragazzi La prossima Ah Più duro di quel che sembra Ho già perso troppo tempo Forresta Selva Fosca Sto arrivando Poverino Non sai che abbiamo già trovato la prima cura stella Guscio schianto Ho visto un po' di posti su cui potrei provarlo Dov'è che erano? Allora Uno era proprio qua La spiaggia E vorrei tornarci apposta Vorrei Prima di proseguire Tornare lì Eccolo qua Infatti Allora Fammi provare Oh Non me la ricordavo questa cosa Sei cosa Quasi quasi punta i soldi Più che altro Preso Quanti? Quanti soldi ho preso? Una moneta sola? Cavolo Pensavo fossero un po' di più io Ma beh Chi se ne importa Sono bonus Molto minori alla fine Finché mi dicevi Guarda Fra quegli oggetti C'era anche Boh Un equipaggiamento Ci potevo anche pensare un attimo Va bene Questo vuol dire Dover ritornare in quelle zone Quando capita Adesso non mi metto a ricercare Dove erano tutti quanti I mattoncini gialli Anche se ce n'era uno all'inizio Che vorrei fare Ma Poi ci pensiamo Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.